Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, le ultime di calciomercato in casa Napoli, a fondo per Lukaku senza aspettare che si sblocchi la situazione Osimen, questo è quello che si legge questa mattina, sirene inglesi per Jens Cajus, la trattativa Gaetano e il Parma che potrebbe andare in porto vista anche la proprietà del Parma che non è come quella del Cagliari e ovviamente alle cifre che abbiamo letto si potrebbe tranquillamente fare, queste sono le notizie di calciomercato che andremo un attimo ad analizzare, novità per quanto riguarda il futuro centro sportivo del Napoli, una considerazione anche lì, fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale per chi passa per la prima volta sotto questo video attivando la campanellina delle notifiche così si resta aggiornati cronologicamente con il caricamento dei vari contenuti e partiamo dalla situazione Lukaku. Il Napoli vuole Lukaku e non vuole più aspettare di dar via Primo Simen come era nei piani originali, una svolta per certi versi quasi in attesa ma ora Conte e De Laurenti si non possono più attendere, la punta tanto desiderata deve essere pronta per la prima di campionato a Verona. Il lieto fine non è scontato, non è ancora detto che arrivi in fretta ma ad un colpo la trattativa è lievitata nelle ultime 24 ore. Il Chelsea intanto ieri ha definito l'acquisto di Omolodion dall'Atletico Madrid e chiede una cifra intorno ai 27 milioni per il belga. Il Napoli tenterà la via del prestito oneroso mentre Big Rom ha già un accordo per un ingaggio da 6 milioni più bonus. Ci sono delle cose però che non vanno di pari passo in questa notizia ovvero la punta deve essere pronta per la prima di campionato a Verona. Non è detto che arrivi in fretta il lieto fine e il Napoli tenterà la via del prestito oneroso. La via del prestito oneroso porterà via sicuramente più tempo di una trattativa pagata. Paghi quello che chiede ovviamente alla società in questo caso il Chelsea e ti porti il calciatore. Col prestito oneroso passeranno sicuramente ulteriori giorni, poi ci sono le visite mediche, la firma del contratto eccetera eccetera eccetera. Ci vuole un miracolo per renderlo pronto per la prima di campionato a Verona. È anche vero però che Lukaku deve rispolverare i movimenti per quanto riguarda il calcio di Conte a livello tattico perché l'ha già avuto, perché ci ha già giocato eccetera eccetera. Dal punto di vista atletico il problema non me lo pongo perché avendo seguito Lukaku nel leader di allenamenti a distanza sta veramente bene e si è tirato all'uscito. Quindi sarà solo un problema di trovare l'alchimia con i compagni e diciamo nei movimenti tattici del Napoli di Conte. Speriamo che si chiuda quanto prima perché se vogliamo che Lukaku sia pronto per la prima di campionato a Verona, anche se è tardi ad oggi, devi chiudere Lukaku nelle prossime 48 ore perché se te lo porti al prossimo weekend, poi al limite lunedì, le visite mediche eccetera eccetera. Siamo al ridosso dell'inizio del campionato, non credo che si possano far poi miracoli per quanto riguarda l'inserimento del calciatore nella nuova squadra. Ma palla a Conte da quel punto di vista e vedremo come andrà a finire. Spunta un nuovo club interessato a Jens Kayust che non rientra nei piani di Conte. Secondo l'esperto di mercato Niccolò Schira sul giocatore svedese ha mostrato l'interesse l'Ipswich. Il giocatore vorrebbe infatti ripartire dalla Premier. Il suo avvio dunque si avvicina. Speriamo perché Kayust è una pedina fondamentale per le liste, potendo poi tesserare Gilmour e farlo diciamo diventare un calciatore del Napoli. Kayust ha anche qualche diciamo vizietto di preferenza. Vorrebbe la Premier ha rifiutato il Galatasaray. Speriamo che l'Ipswich sia di suo gradimento e che si concluda l'operazione perché abbiamo bisogno di fare mercato in uscita. È tardi, tardi, tardi. E ci siamo quasi un tantino pronti le scatole. Al di là che io resto fiducioso nella maniera più assoluta. Non sto qui a far drammi però carissimi ragazzi accettate le offerte che arrivano perché secondo me non siete nemmeno nelle condizioni di poter scegliere ecco nella maniera più assoluta. Il Napoli deve fare il mercato che ha progettato e nel mercato che ha progettato il Napoli sono previste queste uscite. Accettate e fateci andare avanti senza mettervi di traverso. Questo è l'augurio che poi faccio a me stesso più che al Napoli perché qualcuno di traverso molto probabilmente lo troveremo e ce lo porteremo fino al 30 di agosto. Il Parma è Gaetano. Il Parma è una nuova proprietà, proprietà americana che detiene il 90% della società, non ha problemi economici anche per quanto riguarda la trattativa che si aggira. Intorno agli 8-9 milioni il Napoli era partito da 12 milioni per il calciatore partenopeo. Tra 8 e 9 milioni dovrebbe chiudersi e molto probabilmente si chiuderà e Gaetano diventerà un calciatore del Parma e quindi altra uscita che dovrebbe rivelarsi veritiera. Mettiamola così perché non è nemmeno detto poi che al 100% si possa chiudere. La trattativa è nel vivo molto più avanzata delle voci di mercato e di voci di mercato dobbiamo parlare riguardo a Cajust e molto probabilmente si accaserà in quel di Parma. Dicevo, novità per quanto riguarda il centro sportivo del Napoli. C'è stato un incontro ieri, andiamo un attimo a riprendere la notizia così la leggiamo. Eccola qui. Idea a Fragola per la costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli a partire dal 2025. Il sindaco di Fragola Antonio Pannone è intervenuto a Radio Marte e ha commentato l'incontro con il padrone azzurro. Abbiamo parlato con il Napoli incontrando De Laurenti Sanrivi Sondoli, ringrazio il Presidente per la disponibilità. Il progetto è ambizioso, parliamo di 12 campi, un'area da 25 ettari. Afragola ha il suo nuovo piano urbanistico ed è un passaggio fondamentale per la questione degli espropri che sarebbe affidata ad una società di trasformazione urbana. Se vogliamo raggiungere questo obiettivo bisogna ovviamente darsi da fare in un discorso di legalità. Ci mancherebbe altro, aggiungere io. Il Napoli ha anche un'alternativa all'agopatria dove non ci sarebbe la questione degli espropri, ma noi puntiamo ai collegamenti di Afragola che sono migliori. Giustamente a livello logistico è tutta un'altra storia. Il nostro è un modello di primo livello. I tempi degli espropri potremmo farcela entro la primavera del 2025 che è la cornice temporale individuata dal Napoli per cominciare i lavori. Il progetto del club azzurro è ambizioso, non solo i campi ma anche strutture ricettive. Nel Calderone ci sono tante situazioni. Il Napoli sta portando avanti anche questo e ci auguriamo che di pari passo ovviamente ad un calciomercato che deve essere ultimato o quantomeno concluso per ciò che è chiesto Conte, ciò che vuole Conte e il Napoli che sarà. È giusto che vadano avanti e si concludano soprattutto queste situazioni per quanto riguarda il centro sportivo, il Maratona in vista degli europei e quant'altro. Quindi è giusto parlarne e seguire le varie notizie che escono in base anche a queste situazioni. Perché il calcio non è fatto solo di calciomercato e di calcio giocato ma ci sono anche queste cose da considerare e noi siamo felici che il Napoli si stia muovendo per avere un centro sportivo tutto suo e per aumentare eventualmente l'appeal della società nei confronti, non voglio dire di eventuali acquirenti, ma nei confronti del mondo del calcio. Poi che si possa presentare qualcuno e dici ah che bel centro sportivo, lo stadio comunque lo tieni, lo avrai, lo tieni ancora, la squadra c'è, appille come si deve e puoi presentare un'offerta per poterti comprare il Napoli eventualmente senza centro sportivo, senza stadio, non hai niente da vendere e quindi non è che un giorno potrai presentarti, ma io tengo 24 calciatori e basta perché quella è quella è la zuppa. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate qui sotto nella sezione commenti, ci confrontiamo anche lì e per chi è arrivato alla fine di questo video colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i salvatore che festeggiano quest'oggi sul canale perché a quanto ho letto si potrebbe festeggiare anche il 18 marzo, comunque chi festeggia oggi il proprio nomastico, auguri dal sottoscritto e colgo l'occasione per fare gli auguri anche a mio padre che festeggia oggi. Auguri a tutti i salvatore, forza Napoli, sblocchiamo questo calcio mercato e portiamo quantomeno l'attaccante titolare a Napoli per darlo a Conte e cercare di arrivare anche se tardi più preparati alla prima di campionato. sempre forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!